Ingegner Finato, buongiorno. Quali sono le sue impressioni su questa seconda edizione di Made Expo? Le nostre impressioni come Oldspov sono sicuramente buone, erano già state buone nella prima edizione, anche se era partita un po' con difficoltà, soprattutto il primo giorno. Quest'anno abbiamo visto una discreta affluenza già il primo giorno, ieri molto bene e oggi direi eccezionale, quindi siamo sicuramente molto contenti. Le strutture in legno diventeranno secondo lei una presenza importante nel mercato? Le strutture in legno in Italia sono già una presenza importante del mercato e lo stanno diventando sempre di più. Noi abbiamo visto in questi ultimi anni come le strutture in legno siano cresciute, come addirittura nell'ultimo anno tante strutture industriali che prima venivano realizzate in ferro o in cemento si siano trasformate in legno. Quindi siamo assolutamente convinti che il legno può solamente crescere, e questo ce lo dicono tutti gli indicatori di mercato.